E dico, oggi? Oggi non sapevo che cacchio di video fare, quindi a caso ma mi metto a indovinare le bandiere. Non so che video fare. Mentre mi faccio un'idea, faccio questo video. A caso. Allora, io in geografia, a scuola, il mio voto più alto è stato 6. Poi non lo so adesso. Ok, 199 bandiere, quindi già mi devo mettere paura. Indovina, impara, impara. No, non me ne frego. Argentina, Argentina. Ok. Già ne ho saltate due. Austria. Ah, ok, questa la zecca. Falco. Egitto. I bandiera dell'Italia capottata. Gre, Ungheria. E vabbè, ah, perché è Pakistan. E Argeria. Eh, qua è nato Haaland, Norvegia. Poi abbiamo... L'Albania. Questa secondo me è l'unica che ho indovinato. Che è? Le bandiere della Francia. No, Repubblica. Che è? Bandiera del Giappone verde. Eh, Bangladesh. Eh, Portugallor. Eh, Portogallo. Poi abbiamo... Abbiamo, dai, fa vedere la pro... Il Marucco. I marrucchini. Oddio i marrucchini. Eh, Germania. Che belgio. Che cacchio. Eh, Regno Unito. Eh, Regno Unito storto. Australia. Ha nascita già prima. Eh, sì, vabbè. Unione Europea. Che è questa cosa? V-Vetzuela. Eh! Ehi, bandiera. Inter. Eh, Bahamas. Sì, vabbè. Eh, che cacchio è? India. Eh, Svezia. Mamma mia, che potenza. Sole. Eh, la terra dei soli. Che cacchio è? Ma... Macaronia del Nord. Eh, sì, vabbè. Eh, Francia. Eh, Panama. Che cacchio è? I pinguini del Madagascar. È quella di prima, l'India. È quella di prima. Niger. Niger. O brasiliana. O brasiliana. Poi abbiamo... Che cacchio è? Africa. No, Togo. Ucrina. Ucraina. Come si può... Ok, Ucraina. L'ho zaccata. Che cacchio è? Artaride. È quella di prima. Vesuella. No, questo è Ecuador. Inghilterra. Stati Uniti. D'America. Eh, eh, eh. Eh, il Giappone è giallo. No, palla U. No, Aspiè. Come si chiama? Eh, non me ne frega. Stati e cose qua. Aspiè, come si chiama? Cioè, come si chiama sta cosa? Palla U. Tiene la palla a forma U. Eh, Mondraone. No, Galles. Sì, va bene. Aspiè, sta scritto vicino. Eh, Repubblica del Pa... De Pa... Pagaguai. Corea. Del Sud. Stati Uniti. Aspiè, è diversa. Stati Uniti con la Luna. No. Malesia. Che è... Israele. Può che si passa niente? Eh, Spagna. E Spagna. Può che si passa niente? Stai Sazca. Aspiè, questa è quella che aveva niente mondiale. Eh, vabbè, eh. E' che rete? Tagli una golca. Eh, Unione Sovietica. No, Angola. Che è Piemonte. Botte Seguana. Che è... Repubblica Coccos. Ah, Repubblica Ceca. Marocco... No. Samalia. Che è Danimarca. No, Corellandia. No, perché non è una bandiera di Danimarca. Che cacchia? Aspiè, sta scritto vicino. Salvatore. Sì, va poi, ah. Eh... Haiti. Che bella. Che è Filippine. Cuba. Turchia. Questa, so, questa è la Turchia. Non è la Turchia. Eh, sì, non me ne frega, è la pubblicità. Eh, che cacchia è questa? Eh... Gre... Greca. Eh, Grech. Eh... Arabi. Eh, vabbè, eh. Sì, va poi, ah, eh... Che cacchio è? Barbados. Malta. Questa la so, questa è Malta. Questa la so, dai. Eh, che cacchio è? Serra del Leone. Inghilterra. Mamma mia, che potenza. Eh, ci va a beccare. Sud Africa. Repubblica democratica del cono. Poi abbiamo... Armenia. Poi abbiamo... Che cacchio è? Islanda? Islanda, oddio l'ho azzeccata. E che cazzo è questo? Coco. Eh, qua dove stava Modric? Eh, Croazia. Poi abbiamo... Polonia. Indonesia. No, la Polonia. Ma che c'è di c'è? Eh, abbiamo Castellammare. Eh, no. Non è Castellammare. Cambogia. Eh, poi abbiamo... La Ruschia. La Ru, la Ruscia. La Russia. Poi abbiamo... Che cazzo è? Eh... Poi abbiamo la Bosnia. Eh, Bosnia e Zococca. Eh, sì. Non hai capito che quelle l'africane non le so... Sempre se Africa... Eh, quattro stelle. Ma... Microonde. Georgia. Kvaraskelia. Poi abbiamo... Ah, a Zebania. Eh, Gracia Rosse Italiana. Eh, Svizzera. Mamma mia, che potenza. Poi abbiamo... Che cazzo è la LGBT. Sei c'è l'S. Romania. La Romania. Romania. Poi abbiamo... La Scozia. Poi abbiamo... L'Italia, però... No, non è l'Italia. Che cacchio è? Guanea. Poi abbiamo... Quella era quattro stelle. Questo è cinque stelle. No. Orudos. Ok, la bandiera dell'Austria ha capottato. Parú. Ok. E la Romania per sotto. Andorra. Eh, Canada. Credo. Canada, ok. Aspie. Eh, cazzo stanno... Cazzo... Kutsukistan. Come si chiama? Eh, poi abbiamo la Scozia. No. Eh, la Scozia miscata con l'Italia. No, Jamaica. Abbiamo la Russia. No. Che cos'è? La Stoschia. Poi abbiamo... Abbiamo Sorriso con la Stella. Ma... Martania. Poi abbiamo... E che cazzo è? Tanzania. La Turchia. Eh, la Turchia. Questa la so, questa la so. Dai, almeno questa l'ho zaccata. Poi abbiamo... La Russia. La Francia. Paesi Bassi. Ma sono proprio curto che... Aspetta questo lo ricordo a Montenegro. Montenegro. È quello di prima, Paesi Bassi. Non so. Cane! Zitto! Questo chi è? E che cazzo è? Zambabababò... Zambawè... Zambawì. Eh... Bellizze. Eh... Fajanistan. Fajanistan. Cane zitto! Fajanistan. Eh... Kosovo. 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 Poi abbiamo... Polonia una stella. No. Chile. Poi abbiamo... Crestagos. Estuatini. Eh... Che cazzo... Bamuda. La Russia. Aspetta. La Russia con... Slovenia. Eh... Papa Francesco e Vaticano. Vaticano, Vaticano. Vabbè, città del Vaticano è la stessa cosa. Poi abbiamo... Che cazzo è? Gabbone. Poi abbiamo... Sardegna. Cipro. Che è Cipro? È un'isola. Non ho capito. Questo che è? Filippine. No. Djibouti. Eh... Mamma mia. Questa è l'unica che ho cercato. Poi il resto... Eh... San Martino. Eh... San Marino. Mamma mia. Poi abbiamo... Italia. Finalmente. Poi abbiamo... Poggio Reale. No, Gibilterra. Poi abbiamo... Bimmania. Eh... Eh... Europa ha mischiato con l'Inghilterra. No. Capo Verde. Poi abbiamo... I Cinesi. I Cinesi. I Cinesi. I Cinesi. Poi abbiamo... Aspetta, questa stava pure nel Mondiale. Non mi ricordo il nome. Poi abbiamo... Inghilterra. No. Danimarca. Danimarca. Che cazzo è? Cuba. Quella di prima. No. Portoricchione. Portoric... Germania. Oh. Germania. Eh... La Sabbia. Eh... La Serbia. Poi abbiamo... Italia Pezzotta. Irlanda. Eh... Italia mischiata con la Francia e con il Belgio. No. Zbaista. Che cazzo. Eh... Che cacchio è? Bulgaria. Che cazzo è? Eh... Nuova Coccos. Nuova Zelanda. Poi abbiamo... Eccola qui. Fratamo Polonia. Eh... Pringiuvianti di Monaco. E San Marino. Eh... Che cazzo è? Ecuador. Guatemala. Quello di prima è Galles. No. Invece è Brutton. Eh... Queste che sono? Le Filippine. Le Filippine. La Fanno... La Ciazzcata. Poi abbiamo... Cutaia. Poi abbiamo... Eh... Gesù Cristo Lento. No Slovacchia. Poi abbiamo... Albero di Natale. La Miscato con l'Austria. Eh... Libano. Libano. Ah... Questo è Nepal. Di Nepal. 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 Eh... Bravo. Nepal. E poi abbiamo... Che cazzo, eh? Senegal. Poi teniamo... Finlandia, credo. Finlandia. E poi come ultima bandiera abbiamo... Egitto. Invece l'Iraq. E vabbè, poi questa... Vabbè, la Francia. Vabbè, comunque... Concludo qua perché mancano ancora... 19 minuti. Vabbè, metto a caso. Vediamo che mi esce. La pubblicità. Ai...